È un'iniziativa che io come delegato alla scuola, all'edilizia scolastica, avevo messo in piedi insieme alla Giunta già da qualche anno. Abbiamo partecipato a questo concorso indetto dal MIUR. Ci siamo collocati con due bellissimi progetti, uno che riguarda il biocampus universitario per Cepagatti, Villarea, e l'altro che riguarda una scuola omnicomprensiva a Pescina. Gli elementi positivi di questa iniziativa, la prima è che noi avevamo concordato e poi si è portato avanti il fatto che si dovessero fare dei concorsi di idee, per cui oggi presenteremo i concorrenti, i tecnici che hanno presentato le idee e che hanno vinto, erano circa 1200, su questi progetti che sono veramente innovativi e moderni. Quindi il dato professionale è che non si agisce più con singoli tecnici, ma con gruppi di tecnici che presentano idee. Quindi questo è il primo dato positivo. Il secondo è il coinvolgimento dei giovani. Oggi noi presentiamo i progetti che hanno vinto per Villarea e per Pescina. Sono progetti innovativi dal punto di vista strutturale, per l'approvvigionamento energetico, con sistemi innovativi, con meccanismi per il riutilizzo delle acque reflue. C'è tutta una serie di meccanismi innovativi, anche legati al fatto spazio-didattica, che sono importanti nelle scuole innovative. Ma l'idea più importante è che queste scuole, nuove scuole, completamente nuove, serviranno, come nel caso del Biocampus, a costruire le condizioni per l'inserimento lavorativo, dove il percorso scolastico tradizionale. Io penso che sia una cosa bellissima che questa amministrazione regionale ha fatto, di cui sicuramente possiamo essere orgogliosi.